Tra le luci sfavillanti del mondo dello spettacolo, un vortice di relazioni e dinamiche sembra emergere. Ma prima di procedere aiutaci a crescere cliccando su iscriviti e attivando la campanella. Grazie! Patrizia Pellegrino, figura dal passato intriso di misteri, sembra avere una sorta di questione in sospeso con la celebre Barbara D'Urso. Tuttavia, nel complesso quadro di intriganti interazioni, emerge una figura nuova, Mirta Merlino. Un frammento fugace ma significativo sembra aver scaldato i riflettori dei social media, immortalato in uno screenshot che custodisce un'enigmatica prospettiva dei rapporti tra Patrizia Pellegrino e l'ex volto di Pomeriggio 5. Mirta Merlino si lancia con decisione, anticipando il debutto del suo programma previsto per il 4 settembre su Canale 5. Un vento di cambiamento soffia su Pomeriggio 5, con Barbara D'Urso che osserva in silenzio la nascita della sua erede designata, mentre sua sorella Daniela esprime chiaramente il suo dissenso. Nel nuovo panorama, spicca la figura di Mirta Merlino, giornalista di nuova generazione, la cui essenza sembra scaturire da un cuore meno caloroso rispetto alla precedente Lady Cologno. La scena è pronta per un nuovo atto. L'attesa è ora per vedere quale percorso Mirta Merlino intraprenderà nel suo ruolo di conduttrice, le tematiche che affronterà e gli ospiti che inviterà nello studio. Mentre Barbara D'Urso esce di scena, alcune figure svaniscono mentre altre cercano di affacciarsi dalla finestra. Potrebbe essere tra queste, forse, Patrizia Pellegrino? Nel frattempo, emerge un commento pungente attribuito alla stessa Pellegrino rivolto all'ex padrona di casa. La sua dichiarazione, catturata nei meandri dei social, recita «Almeno se mi inviterà, forse riuscirò a finire un concetto». Questo commento, intriso di sottintesi, sembra portare con sé un'ombra di provocazione nei confronti di Barbara D'Urso, come se nel passato le sue apparizioni fossero state caratterizzate da continue interruzioni da parte della conduttrice. Ma questa è solo la prima mossa in un intrigante gioco che sembra essere appena iniziato. Voi cosa pensate? Scriveteci nei commenti!